Cambio della guardia ai vertici della casa automobilistica tedesca Volkswagen. Herbert Diess, finora presidente del marchio, è stato nominato dal Consiglio di Sorveglianza alla guida del gruppo al posto di Matthias Müller, travolto dal Dieselgate, lo scandalo delle emissioni truccate. L'arrivo di Diess coincide con un cambio strategico dell'azienda, che in futuro si concentrerà sulla propulsione elettrica, sulla digitalizzazione e sull'insieme di quelli che vengono definiti nuovi servizi alla mobilità. Nonostante le forti perdite causate dal Dieselgate, Volkswagen ha registrato l'anno scorso un livello record dei profitti, raddoppiati in due anni fino a toccare la cifra di 11,35 miliardi di euro.